Ehi, ehi, ehi Ammalissimo! Moratevi ammalire! C'è un asino! Con le spiegazioni! Non deve ammalire! Che Dio! Non deve ammalire, Asino! Che stasciam? Ma chi stasciam? Ma ci te scemi veramente! C'è un asino tutto a tre, ci sono tre asini! Ma ci te scemi veramente! Chi dimentica cazzo fai? C'è un asino. 33 asini. C'è un asino! Vai down!! C'è un asino! Ammorisce anche un asino! Albedo, ci stai ancora a parlare con un guardo. Stai in due caccia, vai. Ci stai ancora a parlare. Ci stai ancora a parlare con un guardo. È uno sforzo. Leggetti, leggetti, leggetti. È uno sforzo. Pronto per sede. È l'interno. È l'interno. Albedo. Ci stai, albedo. Guarda qui, ma che c'è stato io no? Ma voi mi dica, o no? Signore, non ho finito. Non ti vedi la partita, ti stai a vedere. Non hai visto niente, tu, eh? Non hai visto niente. Ma ci vuoi l'aiuto? Non ci vuoi l'aiuto. Ma la biglietta di destra, già sei la mia. Ma sta di freddo proprio. Ma te, a me che cosa tu, una cervicale. Paolo, prendi piano. Quato cazzo dovi? No. Non ti puoi fare dire. Non ti puoi fare dire. Non ti puoi fare dire, non ti puoi fare dire. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.